Ciao a tutti oggi sono solo soletto domani parto per il mare e mi faccio ancora un giro in collina è sabato mi sono fatto la prima salitina un po' caldo ancora accettabile dai adesso vado fino a Santa Cristina che è lassù quel puntino bianco che si vede là ho fatto mettere le barto così almeno dovrei avere un po' più di tenute in discesa soprattutto bellissima giornata sarà più caldo tardi adesso mezzogiorno farà caldissimi sempre e adesso sigla ed ecco mi a Santa Cristina qui l'arzuolo ci mi pare sotto ci vede già l'afa la k guarda che vado e qui la trek dietro gli ho lasciato sempre le fast track e qui davanti questo barzo ciao ciao ok provati per partire congolè 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 e congolè 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 cuore po Ok, molto bene, molto bene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti